un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo in un angolo del giardino dei frati minori cappuccini nell'eremo nell'eremo dei frati dove qui i gruppi che vengono in pellegrinaggio possono anche ritagliarsi un piccolo spazio dedicato alla preghiera oggi qui per leggervi una lettera che padre pio scrive il 13 di agosto del 1916 padre pio è a foggia perché lui era già stato qui per la prima volta il 28 luglio lo aveva portato qui padre paolino da casa calenda come ci raccontano i curatori dell'epistolario convinto proprio da padre paolino residente qui a san giovanni sceso a foggia per predicare la festa di sant'anna avuta l'obbedienza del padre guardiano di foggia padre nazareno dal paese salì per la prima volta accompagnato proprio da padre paolino e una visita di cui lo stesso padre benedetto il ministro provinciale ne venne lo venne a sapere infatti lui gli scrisse l'otto agosto da san marco la catola circa questa gita a san giovanni rotondo ma che cosa accadeva padre pio è tornato nella calura foggiana e da foggia chiede ecco fa una richiesta anche al suo ministro provinciale gli scrive di tornare qui a san giovanni rotondo e allora andiamo direttamente sul punto perché questa è una lettera abbastanza lunga la potete anche voi seguire sulle pagine dell'epistolario qui il racconto di padre pio che purtroppo nel convento di foggia sta male sono tre giorni che sto sforzando via scrivermi questa lettera e chissà quanti altri me ne toccherà aspettare se voglio contemplare completarla la testa mi duole fortemente non riesco a riordinare le mie idee in certi momenti a questo suol accadermi nei giorni di maggior caldo parmi di essere sul punto di dare di volta il cervello con tutti questi guai figuratevi quanto penoso mi riesce lo scrivere e poi padre pio termina questa lettera ancora accennando al caldo il caldo che non accenna a diminuire mi va sempre più estenuando da domenica in qua verso sera sono visitato dalla febbre temo che non siano febbri malariche perché mi vengono col freddo non so dove si andrà a parare se si va di questo passo ora vengo a chiedervi una carità e tanto più vengo a chiederva in quanto è gesù che mi costringe egli mi dice che bisogna sollevare un po il fisico per tenermi pronto ad altre prove alle quali egli vuole assoggettarmi la carità che desidero da voi padre mio e di mandarmi a passare un po di tempo a san giovanni rotondo dove gesù mi assicura starò meglio